Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. E poi c'è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al concorso Io Gioco, non azzardo, promosso da Roma Capitale e dalla Fondazione Roma Solidale per rilanciare il dibattito sul gioco come momento che facilita la socializzazione e una sana competizione. E come sempre 060606 o comune.roma.it